Allora, vediamo un soggetto che assomiglia a tutti, buonasera, venga lei, lei assomiglia a più di tutti, buonasera, qual è il suo nome? Aspetti che prendo il microfono, allora, dove va? Vengo qua, come si chiama? Luigi, da dove viene? Petraligora e Savona, come i due Andrea. Sì, bastava dire da dove viene, cosa fa nella vita? Studio lettera moderna a Genova. Si vede, si vede, ha proprio il look da studente lei, però assomiglia molto al personaggio che dovrà mimare o perlomeno a ciò che dovrà mimare, lei è pronto? Prontissimo. Ha mai mimato? No. Bene, c'è sempre una prima volta nella vita, guardi questa canzone che conosce sicuramente molto bene, va bene, praticamente questa è la traduzione letterale, mimì pure, va, cosa fa? Dove va? Oh, ma che fa? Vada lì, ma che gli serve il mio aiuto? Baccia da solo, ma dove va? Qui, qui. No, va, mimì pure. È l'aquila reale, no? È uno che cammina. Non vada troppo, c'è un altro studio di là. Ecco, lo può fare anche da qui. Sì, faccia capire dove si trova, dove si trova, ecco, si trova, ecco, si trova lì. E poi... Fermi, forse, non si sa come, ma loro credono di aver capito. No, 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 fermi, fermi, fermi. No. No. No, no, l'ho detto io a lei. Lei, qui, lei deve dire? Esatto. Chi l'ha detto? Non suggerite. No. Ma come no? L'aveva detto bene, l'aveva detto. Sì. No. L'aveva detto, l'aveva detto. Esatto. Ho preso lui perché assomiglia a DiCaprio. Allora dai, vi stanno qui. Per tutta la durata così, fermo. Per tutta la durata così, fermo. Per tutta la durata così, fermo. Bravo. Bravo, bravo.